Benvenuti in questo nuovo video, oggi mi trovo in un campetto di calcio Comunque, come ne pensate della vittoria della Juventus per 3-0 su Sampdoria della Blue Costa, ha spaccato gli equilibri grande dalla Blue Costa che spacca l'equilibrio e entrava a tre gol subito forse ci stava un estiramento per Pjanic e l'ha fatto uscire, perciò comunque ragazzi, che cosa ne pensate Pjanic e se da Blue Costa, 3-3 gol, Manzokic che dira Manzokic, che dira, te lo non mi ricordo, perché non mi ricordo Ah, è il gol di Ottenas, Ottenas, il difensore Comunque, cosa ne pensate? Scrivete sotto i miei commenti Guardate il campo, dove sono messo, che bello, il campo, il campo, il campo, il campo Ciao, ciao Ciao